1, 2, 3, FUNKY! Ovunque, è ovunque, vai alle feste di Natalizia e non c'è, vai a Carnevale e non c'è. Probabilmente la serie di YouTube è a Google, è a Milano, ma proprio non ho idea di che cosa possa riservarmi questa giornata. Devo andare a Milano, al Meeting di YouTube, in realtà non sono nemmeno sicuro di riuscire a riuscire dalla Svizzera, io devo girare a sinistra e io me ne fotto e lo faccio. Sono a Milano, ci ho messo esattamente 45 minuti, anzi un po' meno, da Lugano. A Milano mi viene sempre un po' di panico, perché prima di tutto non sono abituato alle strade di Milano, non sono capace a guidare in mezzo al traffico cittadino. Siamo in centro a Milano, siamo arrivati, ora devo capire dov'è il posto. A guidare dei palazzi, penso che ci siamo, dovremmo essere questa la location. È bellissimo perché ci sono questi palazzi a sbalzo con dei bellissimi giardini, penso che siamo una bella zona VIP di Milano. Siamo qua di fronte agli uffici di YouTube, Google e compagnia cantante, mi hanno detto che i video non si possono fare, io me ne frego farò qualcosa lo stesso. Oltre questo auditorio, molto bello, siamo anche in luce, è una bellissima zona VIPs, questa è la zona dove si fanno i super selfie. Direi di andare a mettere qualcosa sotto i denti. Siamo qua con i ragazzi di scherzi di coppia, come ti chiami? Ketty. Allora, praticamente mi hanno dato un bellissimo benvenuto, perché prima di tutto ci sono un sacco di cose buone, ci sono i donna, di tutto un benvenuto, mi sento a casa. Io per l'occasione ho messo, forse lo avevi già detto prima, il rosso. Ci sta, ci sta il rosso, ci sta un po' meno, però c'è da più. Però è figo, quindi speriamo di continuare così. E certo. Niente, lui ha i capelli veramente molto meglio dei miei. Che belli. Allora mi ha detto Katia, giusto, che fate insieme gli scherzi. No. Abbiamo un canale di Facebook. Non è vero. Però io voglio conoscerlo, mando un annuncio a Rocco, Rocco ti voglio conoscere. Io non vorrei conoscerlo Rocco. Avevo scoperto un youtuber veramente particolare, anzi non avevo mai sentito nessuno che avesse un canale del genere. Lei ha un canale? Religione. Di religione vi occupate? Un tempo eravamo... Tutta nera mi sembra più satanista che cristiana, però. Quanti spazi? Stiamo andando a fare un round table che non ho capito così, però io ho preso la banana e ho conosciuto vergine d'orecchia qua vicino. Allora, siamo qua con dei ragazzi simpaticissimi di Milano, che si chiamano? Christian? Anas. Anas. Abbiamo finito qua Google Italia, YouTube, è stato molto molto interessante e informativo. Andiamo avanti. Dopo la piacevole giornata passata ieri a Milano con i ragazzi di YouTube alla sede Google, oggi giornata, festa del papà, quindi la mia festa, con questi due dietro e la mia moglie, che è qua. Andiamo a Stresa, più precisamente all'isola bella. Andiamo a festeggiare, mangiamo, guardiamo i pavoni, ma andiamo avanti. Questo è il nostro vaporetto. Dobbiamo fare questo piccolo viaggetto con questo specie di battello. Marazzi è il mio cognato, lui invece è il mio nipote, con gli occhiali e mia cognata, Loretta. E direi di cercare il ristorante. Praticamente mia figlia non ha chiuso la bottiglia e ha bagnato completamente la borsa di mia moglie. Non è bello. Gli insediamenti qua sull'isola Borromeo risalgono a circa il 1632, quindi è veramente, veramente antica. Ovviamente l'isola bella, è un'isola prettamente turistica. Qua sembra stare una piccola Venezia. Per non farci mancare niente, mia figlia non ha chiuso la bottiglia. Invece gli ho buttato un bicchiere sano di spitz su mia suocera. È stato un momento trash, però è stato bello. Yvonne, ti sei bagnata? Mi puoi dire... Mi sono bagnato. Ok, questo è un momento di grande YouTubing. Mia suocera, sei bagnata. Allora, siamo stati veramente bene. Ci hanno trattato in modo principesco. Ci ritorneremo qua, al ristorante Elvezia. Il parco botanico è chiuso. Non abbiamo calcolato che il 23 marzo riaprisse, invece siamo in chiusura invernale. Biglietto verde, verde, verde. Siamo un po' più di fronte all'isola, così possiamo preparare il drone. Siamo qua, circa 500 metri dall'isola. Speriamo che non ci sono interferenze. Prepariamo il drone. Siamo qua, circa 500 metri dall'isola. Siamo qua, circa 500 metri dall'isola.